Quanto tempo è passato da quando un brano sudcoreano di un genere fino ad allora semi-sconosciuto faceva la sua comparsa sulle scene musicali italiane spopolando? Beh, era esattamente il 2012, il 15 luglio, a dominare era il singolo Gangnam Style, pubblicato anche in Germania, Austria e Svizzera, oltre che in Italia naturalmente, e ad interpretarlo era il rapper sudcoreano Psy. Il video del brano su YouTube è stato il più visto sul sito dal 24 novembre del 2012 fino all'11 luglio del 2017, quando è stato battuto e superato dalla canzone See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Puth. Il 21 dicembre del 2012 è diventato anche il primo video della storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni, diventando poi il primo a raggiungere i 2 miliardi il 31 maggio del 2014, i 3, il 25 novembre del 2017, i 4 miliardi il 7 marzo 2021. Attualmente si tratta del decimo video più visto in assoluto sulla piattaforma YouTube, la parola Gangnam si riferisce al quartiere più popolare di Seoul, cioè la città di origine del cantante. Insomma, stiamo parlando di un vero successo planetario sorprendente, anche a livello musicale, non solo per il video, tanto che il singolo ha venduto oltre 9,7 milioni di copie durante solo il 2012, risultando il terzo più venduto in quell'anno. Con il termine Gangnam Style però non ci si riferisce soltanto alla canzone, ma a una sorta di neologismo molto diffuso nel gergo giovanile della società coreana e che indica lo stile di vita sfarzoso mondano che viene attribuito ai residenti proprio di quel distretto del quartiere più popolare di Seoul, noto per la sua ricchezza e l'alta concentrazione di società finanziarie che vi hanno sede, tra le quali per esempio aziende come Toyota, LG, Samsung e Google. In effetti, come ha spiegato in un'intervista alla CNN nel 2012, lo stesso Psy Gangnam è un po' paragonata a Beverly Hills a Los Angeles in California. L'artista però in quella occasione aveva anche spiegato che in realtà il contesto descritto nel brano non è quello dell'alta classe. Le persone che effettivamente vivono a Gangnam non hanno bisogno di gridare le 420, aveva dichiarato. Sono solo i poser, gli arrampicatori sociali che sentono il dovere di definirsi Gangnam Style. Quindi questa canzone raccontava lo scopo di deridere questo tipo di persone che millantano un prestigio sociale che non gli appartiene. La canzone parla effettivamente della fidanzata perfetta che sa quando essere raffinata e quando potersi scatenare. E il ritornello, Open Gangnam Style, è stato tradotto come il tuo fidanzato in stile Gangnam, in cui Psy parla di se stesso e si rivolge a un'ipotetica ragazza. Durante un'altra intervista, questa volta con i New York Times, Psy ha rivelato come i fan avessero grandi aspettative sul ballo, motivo per cui arrivò a restare sveglio per circa 30 notti insieme al suo coreografo per idearlo. Tornando invece per un momento al videoclip, prima di lasciarci poi all'ascolto della canzone, ecco che si vede proprio Psy intento a ballare, imitando la cavalcata di un cavallo. Esegue questa sorta di danza in diversi posti, tra i quali una piscina, idromassaggio, una stalla, una giostra, un ascensore, un garage e la metropolitana. Beh, oltre ad essere stato il video così tanto visto, come abbiamo detto, in onore delle visualizzazioni, YouTube aveva aggiunto anche una gif accanto al numero di visualizzazioni per raffigurare una stilizzazione del cantante che ripete il balletto del brano. Ricordiamo anche che ha vinto nella categoria Best Video agli MTV EMA nel 2012 a Francoforte, in Germania. E poi ancora ricordiamo numerosi Guinness World Record ufficiali, tra i quali il video più visto online, il video con più like online, primo video a raggiungere il miliardo di visualizzazioni e poi primo video a raggiungere due miliardi appunto di visualizzazioni. Ancora ricordiamo che Gangnam Style ha generato una serie di flash mob nel 2012 in tutto il mondo, in tantissime città dove si sono svolti questi raduni spontanei, tra le quali Atlanta, Bangkok, Seoul, Jakarta, Melbourne, Parigi, Roma, Sydney, Torino, Stoccolma, Toronto e per quanto riguarda l'Italia anche Milano e Roma, ma in questo caso in Piazza del Popolo, dove hanno ballato con la musica proveniente dai propri smartphone migliaia di persone tramite l'applicazione Music Mob. Ma adesso spazio alla canzone. Buon ascolto!